Padovano, pienone sulle spiagge, pienone nei locali a Ferragosto, a Pescara, la giornata del 15 è andata forse anche al di là delle più rose aspettative, siete soddisfatti? Soddisfatissimi, ma io non mi limiterei solo a Pescara, diciamo pure Francavilla-Montesilvano, questo 22 km di costa che hanno avuto un notevole incremento di bagnanti, lo dobbiamo anche al clima, al bel tempo e anche alle notizie che poi sono apparse, notizie soddisfacenti per quanto riguarda il nostro mare. Purtroppo abbiamo pagato per una stagione 2016 un'annata, un po' dal tempo, un po' dalle notizie che hanno portato i bagnanti lontani dalla nostra realtà turistica, noi crediamo che questa settimana ci dia il giusto momento di riflessione per programmare già per la stagione 2017. Che cosa fare? Intanto dobbiamo muoverci con la regione Abruzzo, la regione Abruzzo debba investire di più su questo tratto di costa che possa promuovere di più l'immagine del tratto Pescara-Francavilla-Montesilvano. Noi abbiamo fatto diverse iniziative per fare in modo che a Pescara, in questo comprensorio, dico sempre Pescara ma mi riferisco anche agli altri due comuni limitrofi, di portare gente attraverso anche una scontistica, abbiamo fatto quella con i treni, che prendeva il biglietto del treno del 50%, poi abbiamo fatto una proposta un po' promozionale per chi ha i stabilimenti bagnari, che ha quegli ombrelloni che non sono stati venduti per l'intera stagione, liberi, di dare l'opportunità a chi viene dall'interno, non residente Pescara-Francavilla-Montesilvano, di dare l'opportunità di prendere l'ombrellone gratis o la Palma Grazia. Questa iniziativa potrebbe essere un lancio per la promozione di fine estate. diamo questa opportunità a chi vuole venire al mare, in diversi liti hanno dato l'ok, di dare l'opportunità di venire e prendere l'ombrellone e non pagare.